UAPI NEMICO IN VOLO Se ne è sceso uno qua guarda Di sotto Ah ti ho spappolato al suolo We loader 2-0 ricevuto Attacco a grappolo NEMICO IN DISCESA NELL'AREA OPERATIVA Dov'è? Che fa' sta la scala? Hai eliminato il bersaglio ricercato Vabbè dopo ci metterai il video lo sappiamo già Aspetta dove? Aspetta dove? Aspiasi